Ieri pomeriggio all'Aquila l'assessore regionale al lavoro e politiche sociali Paolo Gatti ha incontrato i massimi rappresentanti delle principali sigre sindacali regionali affrontando tutti i temi più rilevanti inerenti alla situazione occupazionale ed economica della regione Abruzzo con specifica attenzione alla programmazione degli interventi da attuare nei prossimi mesi. Ammortizzatori sociali ha annunciato Gatti per il primo febbraio un incontro con il ministro del welfare e le regioni nel quale si discuterà anche del rifinanziamento per il 2012 degli ammortizzatori sociali in deroga. Fondo sociale europeo, soddisfazione di tutti i partecipanti per lo Stato e la capacità di spese e soprattutto per il grande recupero realizzato negli ultimi 24 mesi. Un giudizio che si conforma a quello espresso nell'ultimo comitato di sorveglianza dai rappresentanti della Commissione europea. Sulla programmazione dell'ultimo biennio del Fondo sociale europeo si sono condivise le priorità da affrontare. Particolare attenzione sarà ancora data ai giovani, ai laureati, alle donne e agli over 50. Testo unico del welfare regionale, tutti d'accordo sulla necessità di portarlo all'attenzione del Consiglio regionale in tempi brevi. Gatti ha garantito che entro fine febbraio sarà pronta la bozza per avviare un dibattito ampio con tutte le forze sociali. Centri per l'impiego dovranno certamente essere riorganizzati anche in relazione alle recenti novità normative riguardanti le province. Ed infine tirocini e apprendistato. A giorni sarà riunito il tavolo di confronto tecnico. In tale occasione le associazioni datoriali saranno invitate a fornire un monitoraggio leggero dei più recenti fabbisogni formativi.